ci siamo ragazzi siamo in diretta perlomeno questo è quello che dice la strumentazione per cui dovreste cominciare a sentirmi e vedere la nostra schermata stiamo per iniziare se è così, se mi sentite se vedete la schermata mandate un ok vedo Valeria che è la prima a mandare la schermata poi Michele dice ricordiamoci di mettere i pollici in su mi piace, bravo Michele ciao Vanni, Francesca, Giuseppe Roberto, Michele Yolando, ancora Michele Marco, Jacqueline un altro Michele, siamo tanti Michele, sono tanti Michele Alessandro, Flora, Sergio e Sergio guarda che Sergio si sono messi in fila Aldo, Marcella, Michele e Mario ok, un giorno faremo un raduno dei Michele secondo me allora ragazzi fatemi dare un'occhiata per vedere se è ancora tutto a posto qui sembra funzionare tutto e quindi posso dare il via vediamo proviamo eh eccoci ciao bentornati sul canale YouTube di Associazione Culturale Maggiolina alla nostra diretta settimanale ormai siamo prossimi alle festività di questo periodo e niente però c'è tempo per farci gli auguri avremo tempo di farceli magari in qualche modo particolare comunque aspettiamo almeno la settimana prossima perché tra un po' saremo super operati di questa cosa o mi viene in mente una cosa che forse riesco a dirla prima che sia troppo tardi allora stiamo per avventurarci in un periodo di auguri per cui tra poco è ancora presto adesso so che già ci sono le prime nuvole della tempesta auguri ma la settimana prossima si scatenerà attenzione ai Whatsapp ai messaggi in generale a tutte quelle faccine quei cosi che ci mandiamo eccetera eccetera perché tra tutti questi link c'è sempre quello furbetto e quindi poi restiamo in mezzo restiamo presi lì con link furbetto pasticci sul computer eccetera eccetera e quindi occhio occhio anche e lo dico sperando che non sia come si dice di non attirarmi la sfortuna spero proprio di no attenzione ai vari account quindi quando vi mandano quel messaggino che ci dice guarda manda il codice scrivi questo tuo codice eccetera attenzione cioè se voi non state cambiando spostando facendo niente sull'account non dovete mandare in giro quei messaggini lì con i codici se qualcuno ve lo scrive vi dice vi da un errore eccetera eccetera attenzione attenzione in particolare ai giorni prefestivi quanto saremo lì lì alla festa che il giorno dopo o quella mattina lì la mattina del primo giorno di festa eccetera se cadete in quel tranello lì e ripeto se vi capita ragazzi non 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 datevi troppa colpa perché capita a tutti per quello che lo dico lo diciamo ma speriamo di non attirarci la sfortuna in tal senso perché poi ci sono tutti i giorni di festa quindi le varie assistenze dei vari profili facebook google tutte quelle cose lì non sono lì pronte il giorno festivo a rispondere a voi quindi magari poi rimanete per qualche giorno che non sapete cosa fare eccetera e quindi non è una bella situazione per cui me lo dico me lo dico a me bisogna che stia attento attenzione alle email cose strane non rispondete di impulso non non lasciatevi trascinare e speriamo veramente che sia così per tutti e magari evitate di mandare link in giro cioè noi mandate un link buono tra virgolette che manda una pagina internet dove c'è qualcuno che fa il saluto festivo e non c'è niente di male però tutti questi link fanno sì che altri invece infilino dentro cose fastidiose poi soprattutto vi mandano un link dell'augurio eccetera ok fine del discorso non rimandiamo a caso le cose senza neanche averle guardate oh aspetta che la mando anche a questo la mando anche all'altro perché altrimenti contribuiamo a far girare queste cose che creano fastidi anche abbastanza grandi a un sacco di persone quindi restiamo all'occhio e cerchiamo di non contribuire a questa cosa qui ci lasciamo detta per tempo quindi bene allora funziona tutto in questa chiacchierata abbiamo visto che funziona tutto c'è tutto quanto a posto questa volta non disegno neanche la riga vado direttamente sotto gli ok di Mario vedo l'ultimo ok è di Mario c'è anche Michele Michele sì Mario dall'ok di Mario in poi tornerò su a leggere la chat meglio che faccia la riga dai perché sennò non me lo ricordo come si chiama Mario dopo ok dai ho fatto la riga tornerò indietro un po' di più magari mi viene in mente Mario e ci siamo allora che cosa dobbiamo fare beh devo dire un paio di cose ma veloci intanto saluto Aldo ciao Aldo grazie di essere qui con noi Aldo Michele e Edo sono i nostri moderatori della chat quindi ci danno una mano grazie infinite ragazzi perché è indispensabile il vostro supporto e eccolo qua anche Edo e cosa volevo dire allora la novità che riguarda gli abbonati è questa abbonati soliti tutto bene tutto benissimo video eccetera andiamo avanti sapete che ci sono anche gli As Maggiolina Fan che stiamo trovando nuovi sistemi per gestire le cose e adesso è stato proprio ufficializzato anche come funzionalità di YouTube quindi lo possiamo fare al 100% che era una cosa che era piaciuta subito e i video ne anteprima quindi gli amici abbonati ad As Maggiolina Fan vedranno il video con dell'anticipo loro saranno avvisati del video in anticipo quindi quando vedete il video di domenica e oggi è giovedì sapete che anche se ci cliccate sopra non lo vedete è sempre stato così se si vede il video di domenica qui nella lista dei video il giovedì è ok però quello di domenica è domenica uscirà domenica in realtà adesso se è pronto se è tutto a posto anche se è giovedì e gli abbonati As Maggiolina Fan possono già vedere il video di domenica non cambia tanto perché poi domenica arriva e si guarda quel video lì gli As Maggiolina Fan l'hanno già visto però c'è questa nuova funzionalità e ho visto che è apprezzata per cui la sfruttiamo e quindi gli amici As Maggiolina Fan riceveranno la notifica di video pronto prima degli altri se il video sarà pronto prima degli altri resta il discorso dei video abbonati quindi ci sono alcuni video sul nostro canale ce ne sono un'infinità ormai di video sul nostro canale solo per gli abbonati e cerchiamo di farne uscire settimanalmente di nuovi tutte le settimane qualche volta 2 qualche volta 1 qualche volta 0 eccetera ma tutte le settimane in linea di massima c'è qualcosa per noi diciamo area abbonati dove descriviamo il dietro le quinte dove facciamo degli approfondimenti dove mettiamo delle cose magari che mi avete chiesto eccetera eccetera e dove provo qualcosa di nuovo stavolta magari lo provo in anteprima e siamo qua quindi amici rimanete sintonizzati restiamo collegati e andiamo avanti con i nostri discorsi il pranzo sabato stiamo per arrivare ragazzi ci siamo ci siamo quasi e speriamo di arrivarci tutti di non avere intoppi soprattutto di stare tutti quanti bene in modo da poter fare questo pranzo e di godercelo anche qui speriamo di non esserci attirati la fortuna ma ci siamo quasi ci siamo e quindi ci vediamo presto ragazzi ok pronti a partire dai adesso partiamo con il nostro discorso il video di oggi questo tutto parte da qui diciamo questo titolo ha significato che effettivamente questa cosa dell'usare il computer che poi si espansa ai cellulari ai tablet e fai questo e fai l'altro e tutto quanto e naviga in internet e scarica la nuvola e tutta questa cosa qui del mondo digitale che ormai diciamo che è sfuggita di mano nel senso che è facile imparare a usare il computer è facilissimo imparare a usare il computer peccato che negli ultimi 20-30 anni si sono aggiunte talmente tante cose tutte facili ma sono tante che poi non si può pretendere di capire tutto in due minuti e soprattutto adesso ci serve tutto subito perché ormai siamo bombardati di informazioni digitali quindi dobbiamo sapere tutto subito per cui è facile però ragazzi adesso comprendo per chi si avventura adesso che sia più impegnativo e quindi che non sappia più bene come fare ma tutto quello che facciamo lo facciamo partendo da una piccola cosa e che adesso andiamo a vedere e su quello si basa tutto e la maggior parte delle persone che usa il computer così che ha imparato un po' gestendosi da solo poi non sa usare quella cosa lì e quindi tutti i problemi che abbiamo ce li abbiamo perché non sappiamo usare il nocciolo della questione la cosa principale e adesso andiamo a vedere cos'è intanto vedo tutti quanti i messaggi poi andrò a leggerli allora innanzitutto qual è questa questione noi con i nostri computer prima di tutto è stato il computer poi adesso con tablet smartphone internet eccetera digitalmente parlando usiamo delle informazioni gestiamo delle informazioni leggiamo un articolo scrivo qualcosa faccio una foto carico un video intanto saluto Bruno ciao Bruno grazie infinite per la super chat grazie 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 infinite Bruno e permettetemi di dire super chat super sticker super grazie abbonamenti tutti gli altri sistemi che utilizzate per sostenerci ci permettono letteralmente di essere qui quindi il mio grazie ma anche quello di chi guarda in definitiva a volte guarda magari neanche mette il mi piace dovrebbe giungere a tutti quanti voi perché siamo qui grazie a voi quindi grazie grazie da parte di tutti dai lo dico io per gli altri allora dicevo tutto quello che noi facciamo alla fine è una informazione un video metto un video lo creo e lo metto lì scrivo qualcosa i post la foto tanti auguri tra un po' adesso ci lanceremo in questa cosa qui tutto quello che facciamo di fatto è qualche cosa una qualche informazione che sia un augurio che sia la formula non lo so per calcolare la distanza tra la terra e la luna è un qualcosa che noi creiamo che riceviamo che modifichiamo che rimandiamo da qualche parte quindi è tutto un manipolatore di informazioni un po' come se fossimo in una cucina di informazioni di cose quindi noi le riceviamo sul nostro tavolo sul nostro desktop del computer lo maneggiamo e poi viene sparata messa da qualche parte eccetera e quindi la difficoltà del computer è la gestione di quello che facciamo di queste informazioni anche perché dici vabbè ma dove sono come le gestisco cosa sono queste informazioni in realtà sono un qualcosa che vediamo nel computer cioè nel senso che l'informazione posso vederla posso metterla qui piuttosto che là piuttosto che sulla nuvola posso modificarla cambiarla cambiargli nome spostarla o cancellarla quindi ci lavoro con queste informazioni e queste informazioni sono file e cartelle le informazioni sono i file quindi adesso ci mettiamo lì e in qualche volta devo dire perché ci vorrà più di una volta impariamo una volta per tutte cosa sono i file cosa sono le cartelle e come si gestiscono perché quello è tutto il succo dell'uso del computer se sai usare fai le cartelle ma bene così cioè senza pensarci e dici ma quella cosa lì ma non mi ricordo se sai usare così fai le cartelle sai usare il computer finché tu non hai questa cosa qui di fai le cartelle sarai sempre lì che non sai se hai fatto qualcosa ma sarà andato aspetta che vado a vedere ma e se l'ho perso eccetera e avrai sempre questa paura di fare qualcosa che non va anche nel campo lavorativo perché poi quando tu metti le mani su un computer di lavoro magari tu non fai non crei queste informazioni queste cose i turni magari tu li guardi e basta ma magari devi andare a scriverci dentro qualcosa e poi cosa è successo quando l'ho scritto e se l'ho perso se l'ho cancellato eccetera poi se non sei pratico ti prendi anche colpe non tue quindi non è una buona cosa per cui adesso vediamo di capire questa cosa qui e cominciamo a muoverci all'interno di questo mondo qui per cui rimpicciolisco la mia finestra prendiamoci il tempo di vedere questa cosa siamo in una finestra visto che ne abbiamo parlato non tanto tempo fa vado a premere sul meno sul riduci a icona la finestra si rimpicciolisce non l'ho chiusa perché magari mi serve tra poco quindi è qui piccola guarda se ci vado sopra la vedo è sulla barra delle applicazioni quindi la nostra riga qui sotto è la barra delle applicazioni ha uno scopo informativo e ci dice quali finestre sono aperte una due quella lì vicina e tre nel mio computer troppe finestre aperte troppe informazioni aperte è un po' come se fossimo in una cucina è un po' come pentole sul fuoco ogni finestra aperta è una pentola sul fuoco quanti fornelli ha la tua cucina e se fossimo nel computer potremmo dirci quanta RAM hai il tuo computer se il tuo computer ha tanta RAM ha tanti fornelli può tenere accese può tenere sul forno tante pentole se no non ce la fa e due pentole insieme su un fornello non ci stanno e si fa fatica quindi la RAM quando senti parlare il mio computer a 4 giga 8 giga 16 giga eccetera fai conto che siano i fornelli della tua cucina se ne hai tanti cucini tutto quello che vuoi il tanto e anche l'uovo nel pentolino e se ne hai pochi fai solo l'uovo nel pentolino o fai solo il poco quindi io mi devo gestire e se certe cose sono troppo per il mio computer un po' impari a conoscerlo perché quando è lento ti dici che hai su troppi fornelli e quindi devi chiudere qualcosa io adesso ormai conosco questo computer so che questi tre qui per lui sono niente e quindi o comunque poco e quindi posso ridurre a icona una cosa che mi serve tra un po' invece di chiuderla e metterla via spegnere il fuoco e lasciare il fornello libero ok e qua ci siamo andiamo ad aprire un'altra finestra quindi prendiamo su un'altra pentola vado a cercare qualcosa d'altro che è esplora file esplora file e noi abbiamo parlato di file vado ad aprirlo si apre la finestra perché tutto si apre in una finestra sono finito in questo pc ok che è tutto il mio computer quindi sto guardando dentro la credenza principale del mio computer e decido di aprire lo sportello dei documenti vado in documenti dentro c'è della roba eccola qua e cominciamo a dirci che questa roba qui sono cartelle ragazzi sono contenitori ho aperto l'armadio dei documenti ma dentro ci sono degli altri contenitori non è tutta la roba buttata lì insieme eccetera queste informazioni questa roba che sarà foto quello che è tutta schiacciata dentro no siamo ordinati e speriamo di essere ordinati cerchiamola almeno nel mondo digitale cerchiamo di essere ordinati e ci sono queste cartelle che sono dei contenitori delle buste delle scatoline se vuoi vederle dei cassetti immaginatele come che vuoi nel modo in cui vuoi però qui nel mondo reale le hanno traduzione per tradurle nel mondo reale è una cartella vedi che una cosa che si apre così ci metti dentro i fogli è un folder all'inglese ma è una cartella se vuoi un nome del passato è directory nel passato i primi che si mettevano lì col computer dovevano andare nella directory era la cartella e oggi è la cartella quindi io qui ho un certo numero di cartelle con un nome che mi permette di capire cosa c'è dentro queste sono per me così da esempio ma nel mio disco questo lavoro H dove c'è as maggiolina dove ci sono risorse ogni cosa è dentro al posto giusto se fosse la nostra cucina nel cassetto delle posate non ci sono dentro i bicchieri e il cassetto delle posate è quello lì perché è il più comodo perché è il primo della cassettiera perché è quello più basso è fatto a posto eccetera quindi ogni cosa ha il suo posto perché io devo sapere dove sono le mie cose ma anche un'altra persona se si siede un attimo a computer deve potersi muovere grosso modo allora in quel caso il computer è gestito bene perché io non posso ricordarmi tutto non posso ricordarmi dove metto le cose se le metto a caso quindi ogni cartella deve avere un suo nome e ogni nome deve essere attinente al contenuto e poi ci deve essere il contenuto ad esempio questa pepite qui per chi ancora è nuovo diciamo dei nostri corsi non sa che pepita è il nome di una gatta di fantasia una gatta di fantasia sulla quale abbiamo scritto delle storie che poi è la stessa storia che continuiamo a girarci attorno e quindi queste storie abbiamo voluto raccoglierle tutte in una cartella apposita delle pepite perché lei ha il suo al suo book al suo libricino di 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 favole di storie quindi ce le ha lì per cui se io apro questa cartella so già cosa c'è dentro e devo dire che non me ne ricordavo neanche più ma chi è che sapeva a dovere eccetera però è un documento è testo cominciamo a guardarci attorno vedi qua attorno queste sono cartelle anche queste e queste qui con delle immagini diverse da quella gialla vedi quelle gialle sono quelle che in qualche maniera ho creato io quindi quando mi hanno dato il computer non c'erano io ho creato la cartella è uscita gialla poi a seconda di quello che c'è dentro qui vedi c'è un fiore e ci sarà un fiore dentro ci sarà una foto di un fiore fiore vero sappiamo che non c'è ci sarà una foto di un fiore qualcosa quindi alcune hanno un disegno che mi fa capire di cosa si tratta però guardiamo a monte questo è il mio computer qui se io mi guardo attorno qui vedo desktop questo desktop è una cartella è lo schermo principale del computer il nostro desktop è la scrivania ci siamo detti intanto saluto anima blu ciao e grazie infinite per l'uso della super sticker super sticker bello anche grazie infinite anima blu grazie 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 dicevo il desktop è questo questo è il nostro desktop non c'è dentro non c'è niente neanche il cestino mi pareva di averlo rimesso il cestino invece si vede che l'ho spostato eccolo qua dai lo metto dentro eccolo qua l'avevo spostato di là ok di solito ho anche questo dai lo rimetto a posto perché stamattina ho dovuto lavorare e l'ho spostato li metto a posto trascinando tengo premuto il tasto sinistro e trascino ok questa cosa dovremo vederla perché se provi sul tuo computer qualcuno resta qualcuno trascina e resta qui e qualcun altro trascina e lui torna indietro come una molla è una questione di impostazioni quindi intanto lo metto lì vediamo se stiamo andando bene con la chat con la diretta tutto quanto tutto bene a posto ok aspetta ho perso la chat devo andarla a trovare qua ok ci siamo e ho perso il filo si siamo andati sul desktop allora sul desktop c'è il cestino e c'è questo driver save che è uno strumento se io torno in esplora file che nel frattempo si è rimpicciolito qui l'ho chiuso l'ho rimpicciolito non chiuso l'ho rimpicciolito senza dirtelo perché ero sopra pensiero schiaccio e lo riapro se vado qui su desktop vedo che cosa c'è sul desktop e allora tu ti dici ma ascolta sul tuo desktop rimpicciolisco due cose ci sono una e una due sul desktop dentro lì se io premo qui è una due tre quattro cinque sei sette otto nove dieci undici e tra l'altro se ci guardiamo attorno il cestino non c'è perché lì ce ne sono due e qua ce ne sono undici perché in realtà il mio desktop è fatto da due schermi io ho questo schermo che condivido con te in questa diretta e il secondo schermo che per me è qui alla mia sinistra dove c'è la situazione della diretta come sta andando la linea la chat che mi scrivi e tutto quanto i comandi che servono per cambiare schermata per fare queste cose qui e tu del mio desktop ne vedi solo metà nell'altra metà tengo fuori vista degli strumenti che mi servono per fare le cose per esempio questo smartphone mi serve per far vedere il mio telefonino sullo schermo e quindi io avendo due schermi quello che è qui si vede quello che è di là vedi che siamo a metà io lo sto vedendo dall'altra parte quindi è passato di là tu non lo vedi più perché così ho scelto per le mie dirette quindi queste cose qui che vediamo sono cartelle l'annuncio importantissimo che dobbiamo dirci assolutamente subito fin tanto che non so esattamente quello che faccio non so esattamente questo crystal disk info magari lo trovi sul tuo computer e dici va che roba è lo butto via? no finché io non so esattamente cos'è ogni cosa io quella cosa non la tocco non la sposto non la cancello non gli cambio il nome tra un po' impareremo a fare queste cose e noi dobbiamo essere bravissimi quando faccio pulizia nel computer se non se non sono super esperto mi dico ma non la facciamo perché rischiamo solo di fare dei danni no attenzione quindi non si toglie niente che non si conosce conoscerai prima o poi tutto del tuo computer io conosco tutto del mio computer no e quindi quello che non tocco quello che non conosco non tocco ok poi ti insegnerò qualche trucco per gestirti un po' per non essere proprio brancolare nel vuoto però è come un'automobile come qualsiasi cosa è costruita in qualche maniera cioè tu la tua automobile la guidi ma non è che se guardi dentro il cofano motore dici ma quella vite lì a cosa servirà tiriamola via no c'era quando hai comprato la macchina e tu dici vabbè la macchina funziona io giro il volante cambio le marce faccio le cose che devo fare quella vite lì a me non disturba e la stessa cosa deve essere nel computer solo che nel computer ci viene da fare pulizia da togliere le robe inutili da liberare spazio e lì facciamo dei guai quindi regola aurea non si tocca quello che non si conosce ok ok per cui desktop è la nostra scrivania che viene visualizzata qui cioè quello è comunque una cartella anche se non mi viene mostrata cioè io la vedo lì è comunque una cartella è comunque un contenitore come sul tuo tavolo non lo chiudi ma il tavolo se ci metti su una cosa quello è nel tavolo è sopra il tavolo ma comunque puoi raccogliere le cose sul tavolo e sono quelle lì queste sono le cose sul desktop e posso vederle come se fossi dall'alto le vedo tutte quante qua e potrei lavorarci da qui poi c'è download download in inglese ci premo sopra intanto così lo vedo in inglese significa scaricare intanto qua c'è anche della roba che delle bollette qui di tutte queste cose qua che a questo punto potrei anche cancellare quindi le cancello cancello questa volta cancello io così e cancello io così e basta ti spiegherò bene come cancellare e tutto quanto perché è così e questo è perché appunto c'è tutto un discorso che devo fare dietro a questo cancellare questa è la nuova foto amici di Maggiolina Fan che devo ancora mandare il nuovo sfondo del desktop e quindi presto lo manderemo anche se tra un po' passiamo magari qualcosa in tema allora cos'altro volevo dire download significa in inglese scaricato scaricato scaricando scaricato direi quindi quella lì è una cartella perché adesso sappiamo cosa sono le cartelle è una cartella dove vanno a finire le cose che prendi da internet prima erano su internet tipo le fatture che abbiamo visto prima c'erano le fatture le bollette della luce cose così quelle lì erano su internet io sono andato in questo caso nell'area del familiare che ha queste bollette qua e le ho scaricate e quando arrivano nel computer finiscono tutte in una cartella che è tipo una stazione di arrivo però è una cartella nel nostro disco del computer e stanno lì perché così io possa trovarle questa cartella dovrebbe essere un luogo temporaneo nel senso che quella roba lì la metto lì ma poi troverà un posto da qualche parte vedi le bollette le ho buttate via perché una volta che le ho pagate sì la ricevuta in questo caso cartacea che mi hanno dato ce l'ho e questa a fine non mi serve più averla in formato digitale quella bolletta lì e l'ho buttata via che è finita nel cestino e poi ci lavoreremo al discorso cestino però in download vanno a finire le cose che scarico da internet e poi dopo stanno lì e vediamo che ne ho potrebbe essere peggio nel senso che se vai nel tuo download se usi un po' il computer se ne hai tante ok è già così sono tante cioè io sta roba qua queste cose qua in fondo che non butto via non le userò mai più queste con le tastiere le copertine del corso dell'anno scorso questa roba qui potrei selezionarla e buttarla via io l'ho fatto non voglio spiegarti come si fa eccetera eccetera perché è presto dobbiamo fare tutto un discorso però le cose in download dovrebbero essere come una stazione temporanea arrivano lì e poi dopo dici allora questo è un video 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 ok questo va tra i video qua ad esempio ci sono i video quindi dovrai fare quel lavoro non farlo adesso se sei un super principiante se invece sai quello che fai ok ma se sei un super principiante non serve cioè serve ma non adesso perché adesso facciamo dei guai quello è già un lavoro avanzato tra virgolette saper mettere le cose nel proprio posto e sei avanti se sai fare quello quella è la gestione del computer e per dirci questo download è un luogo temporaneo di arrivo le cose possono stare lì anche per sempre ma non è il loro posto è come quando ti compri un vestito nuovo entri in casa butti la borsa lì in corridoio e poi la usi da lì no forse i pantaloni nuovi verranno lavati finiranno nell'armadio un giorno non devi tenere tutto lì perché è la prima roba che arriva lì in corridoio ok e questo è il discorso del computer è la stessa cosa quindi però download documenti in genere è una cartella questa vedi che è già organizzata che ci sono le sottocartelle questa è la cartella queste sono cartelle che ci sono dentro si chiamano sottocartelle perché sono dentro alla cartella documenti e quindi questo è tutto bello organizzato tutto quanto a posto e qui dentro ci saranno cose scritte scritte testo eccetera non immagini e non video e non musica di solito nel mondo informatico dividiamo così le nostre informazioni in questa maniera e quindi questa è roba scritta grosso modo scritta io posso metterci quello che voglio qui vediamo che c'è una foto se voglio ok ma se sono già diciamo inquadrato bene mi trovo meglio tipo a casa lo spazzolino da denti se tu lo metti nel primo cassetto dell'armadio è facile che quando sei in bagno che ti serve tu debba uscire andare a provare andare a prenderlo ricordarti che ma si l'ho messo nel primo cassetto dell'armadio andare a prenderlo e poi tornare in bagno quindi le puoi mettere dove vuoi le cose ma c'è un posto giusto e un posto meno giusto ok e quindi qui è la roba scritta di solito poi ci sono le immagini foto e quindi ho e attenzione che le foto quindi le immagini occupano tanto spazio le immagini sono documenti sono sì li chiamiamo tutti documenti perché sono tutti documenti però qui stiamo facendo una distinzione maggiore le immagini sono oggetti pesanti per il computer che occupano tanto spazio o ingombranti si tende a dire pesanti o a quanto pesa quell'informazione lì però chiamiamola ingombrante ok e se poi è ingombrante e se poi ne hai tante il telefonino è pieno ah il computer non ha più spazio e allora come si fa perché mi dice eccetera perché nel passare del tempo tu hai accumulato tanta roba ingombrante nel tuo computer e adesso non ci sta più nient'altro e la roba nuova non ci entra perché la vecchia è lì e dove la mettiamo e mettila fuori su una penna eccetera e quindi c'è tutto da lavorare e bisogna quindi imparare a gestirsi dirsi le foto ne ho tre uguali in due ho gli occhi chiusi e l'altra no ne teniamo una oppure ne ho tre uguali belle le tengo tutte e tre se sono uguali no ne tengo una sola perché le altre due occupano spazio e non so dove metterla tanto più che se sono uguali posso anche moltiplicarle a piacere e se io guardo qui mi dico ma quanta roba inutile qui potrei buttare via tutto e stop però è così quindi è una cosa normale poi ad esempio questa cartella qui da cancellare è una cartella mia particolare che creo sempre nei miei computer in pratica ci sono quelle cose che servono mezza giornata servono un giorno dici ma sta roba qui questi qui questo è un manuale di istruzioni di un telefono che sto guardando sto cercando di imparare come funziona eccetera eccetera perché lo sto provando uno diverso dai soliti quindi per un po' ci sarà anche la novità di un nuovo telefono e ho fatto le foto leggi guardalo c'è del materiale che poi a me non interesserà più e mi serve temporaneamente finché non ho finito quel lavoro lì dopo non lo catalogherò nel mio computer perché dobbiamo anche dirci che non si può tenere tutto quindi a un certo punto certe cose vorranno buttate via e io ho creato nel mio computer una cartella da cancellare dove so già in partenza che le cose che metto dentro lì posso in qualsiasi momento o comunque in linea di massima buttarle via perché sono a perdere quindi attenzione non le butto nel cestino il cestino e la pattumiera è roba già marcia che non voglio più questa è roba che mi serve temporaneamente e la metto qui tra l'altro se io questa roba qui la mettessi nel cestino non potrei usarla dal cestino dovrei tirarla fuori mettila qui mettila là eccetera quindi io ho una cartella apposta di roba temporanea che starà lì un po' poi dopo ciao e questa è da cancellare questa poi in alcuni casi alcune le ho fatte sotto forma di sottocartelle tipo questo la campana dei caduti è un luogo in cui sono andato ho fatto delle bellissime foto mi piacerebbe farne qualcosa di quelle foto lì organizzare qualcosa andare eccetera eccetera dico vabbè raccolgo tutto lì probabilmente non lo farò mai ma non ho dato per persa l'idea e quindi è lì mentre invece questa roba qui domani dopo domani sarà già sparita perché avrò finito e quindi qui non devo pensarci se a suo tempo le avevo messe in da cancellare era già roba che avevo già deciso che non mi sarebbe servita per sempre poi c'è musica questa ce l'abbiamo tutti e c'è dentro della musica che non sapevo neanche di avere e fatalità musica in tema anche quindi va a sapere come mai è lì ma presumibilmente qualcuno ce l'avrà messa e chi è che usa il mio computer ops solo io e quindi adesso non mi ricordo ma probabilmente ce l'avrò messa io togliamoci uno sfizio ho messo sta roba c'è questa roba qui nel computer abbiamo detto che ce l'avrò messa io quando ce l'avrò messa allora queste cose qui sono oggetti sono file allora abituiamoci ad avere il secondo il secondo concetto le cartelle le abbiamo viste ma quello che c'è dentro una cartella tipo qui da cancellare cartella 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 sta roba qui no 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 disegni diversi ma non sono cartelle questi sono file che tradotti in lingua italiana non esiste cioè la parola file è un file non c'è una traduzione italiana noi per comodità lo traduciamo in foglio la cartella è un contenitore il foglio è un file non contiene niente ma è scritto ci sono delle cose scritte sopra o delle cose disegnate sopra e quindi se io dovessi aprirle vedrei le cose per cui la differenza dell'uso del computer è che noi lavoriamo sui file maneggiamo file informazioni foto disegni video tutto il digitale l'informazione del mondo digitale è contenuto in un file è scritto su un foglio in pratica eccolo qui il mio file e lo metto in una cartella questo è il concetto ok sempre per andare sul succo poi continuiamo a dirarti attorno per comprendere bene il discorso perché le sfumature sono infinite quindi se io guardo musica vedo che ci sono dentro dei file l'iconcina è diversa il disegno che rappresenta questo file è diverso perché questo è un file musicale ma sai che non mi ricordo di quando è questo file qui chissà quando è arrivato uomo vuoi che sia arrivato adesso perché questo è il periodo giusto non credo quindi qui c'è visualizza questa è la mia finestra che in questo momento mi sta mostrando la cartella musica e vediamo che questa finestra adesso si chiama musica perché io sono in musica e quindi mi dà questa informazione se vado in visualizza e premo vedo che cosa posso vedere se dettagli elenco riquadri in realtà no io i dettagli ce li ho già e potrei vedere il dettaglio di ogni singolo documento questa musica qui non posso vedere quando è stata messa perché questo file qui ha un nome ha un titolo ha un artista che l'ha suonata e fa parte di un album e quindi niente mentre se invece io vado in un file questo questo è un file immagine e vado in visualizza dettagli vedo che questi file questi erano i file immagine di prima sono stati creati in una certa data ad una certa ora quindi stamattina alle 13.12 alle 8.17 ho messo qui questo file alle 8.19 ho messo quello questo e alle 8.20 è arrivato quello lì alle 12.35 un altro quindi ogni file ha un suo nome di solito una data fa eccezione la musica abbiamo visto e una tipologia questo jpg è un tipo di informazione è un testo è un foglio di calcolo è un disegno è una foto è un disegno tecnico di quelli tipo progetti elettrici roba architettonica cose così cos'altro c'è in giro è qualsiasi cosa ogni file ogni foglio ha un tipo di file e in genere l'icona cioè la figurina mi aiuta a capire qual è ma lo so esattamente da questo il tipo che poi andremo a vedere in un secondo tempo e ha una sua dimensione un peso eccetera e quindi abbiamo visto questa roba qui musica abbiamo detto video ok guarda quanta roba che c'è in video questi sono tutti i video che registro eccetera quindi dopo sono qua e tutto quanto questi video qua mi servono tutti? no però per questi video ho il ma non si sa mai quindi come mi organizzo io siccome registrare un video ci impiega un sacco di tempo io lo registro lui viene catalogato dal registratore con un nome una data e un'ora in inglese vedi 23 12.05 significa 5 dicembre 2023 perché gli inglesi le fanno tutte in un altro modo le date alle 12.29 36 secondi ho registrato questo video qua qua c'è la data vera che è la stessa quindi questo è il nome che il registratore nel nome inserisce già e dove nel nome il registratore inserisce già la data perché metti che io non sia capace di andare a vedere lì lui c'è già e poi ci sono tutte le altre cose e io poi magari vado a a scrivere le varie cose questo AD24 39 per me alfabetizzazione digitale 2024 il nostro corso video numero 39 quindi qui c'è data e ora di registrazione ma poi ci aggiungo anche le cose per me e che mi servono e come mi organizzo io adesso sono qua nel senso che questo video app android è stato pubblicato è uscito ieri spero che l'abbiate visto perché era bello non mi serve più ok però mi dico caspita ho fatto tanta fatica a farlo è lungo ci ho pensato troppa roba troppo tempo non sono pronto a buttarlo via però non è che lo terrò cosa mi serve adesso io ho il mio archivio da un'altra parte però questo video qui è diverso da quello che ho pubblicato questo è quello grezzo dove ho detto tutto dove ho fatto degli errori dove ho detto cose in più che poi ho detto basta roba qui magari è inutile eccetera la tiro via e quindi questo è un di più di quello che si vede alla fine sul canale youtube per cui per adesso per me è ancora prezioso metti mai che mi venga in mente di fare uno short un video di dover prendere della roba che c'è lì non posso dirmi no l'ho buttato via perché c'è dietro tanto lavoro e quindi lo lascio qui a decantare nel senso che mi dico in questa maniera qua allora io sono arrivato oggi ho registrato questo 13-12-2023 ma ne ho altri indietro sono tutti in ordine cronologico in questo caso perché si possono gestire tutti quanti ne ho altri indietro e per precauzione tengo indietro dei mesi quindi io posso tornare indietro al mio video del 2 di ottobre non lo so mi viene un'idea folgorante voglio fare qualcosa beh ho ancora il video dal 2 ottobre poi quello del 3 magari ne ho fatti 3-4 perché ho sbagliato perché no li tengo lì ogni tanto mi dico ok dai via un paio di mesi vengo qui e pulisco butto via butto nel cestino e svuoto il cestino di un paio di mesi di questi video qui così mi dico vabbè adesso siamo quelli sono di ottobre siamo a dicembre basta quando a fine mese adesso ho appena fatto pulizia mi piace tenere dietro un paio di mesi così non riempio inutilmente il mio computer di roba che comunque non mi servirà più se non mi è servita in 2-3 mesi dopo basta cioè non è che vado a riprendere il video dell'anno scorso per fare una roba faccio un video nuovo perché l'anno scorso l'anno prossimo sarà un'altra roba e quindi se le cose non sono sicuro che mi servano oppure no queste le lascio invecchiare lascio lì un pochino eccetera ma potrei buttarle nel cestino lasciarle cancellare a 30 giorni no perché non voglio che ci sia una gestione automatica sono io che so le mie cose e mi dico va bene ogni tanto quando mi sveglio quella mattina lì che dico ok dai adesso facciamo un po' di pulizia mi sono organizzato che tiro via un paio di mesi perché così posso vedere quando cancello guardo Chromebook no aspetta questo magari decido che non lo faccio mai però potrei e quindi decido io e basta quindi file e cartelle questo pubblica visto che siamo qui e siamo arrivati fin qua diciamoci anche quello così sai cosa serve quella cartella lì questo pubblica serve per rendere questi file questi qui condivisibili disponibili anche con altre persone che dovessero usare questo computer nel senso che ogni computer anche il telefonino ma di solito sul telefonino non si fa sul tablet già di più ma meno ogni computer può essere usato da più persone nel senso che io questo computer qui lo condivido con mia moglie a volte quando sono in viaggio che io prendo io prendo su un computer portatile di mia moglie sul quale lei lavora lo prendo su e siccome ce l'ho io e lei magari deve lavorare lei si siede al mio computer e lavora al mio computer io ho il suo lei usa il mio tanto se io non sono a casa lei lo usa e lo può usare ha un suo nome quindi quando il computer si accende viene fuori Daniele viene fuori il nome di mia moglie lei schiaccia sul suo nome ha la sua password che io non conosco entra nel suo mondo nel mio computer e quindi lo usa come se fossero due computer diversi Daniele e mia moglie e quindi siamo così che tra l'altro pare che venga alla cena al pranzo diciamolo piano pare che venga anche al pranzo sabato quindi ragazzi la vedete finalmente e quindi però non è ancora sabato però chi venga venga anche pensando che pare che venga e cosa volevo dire siamo quindi lei ha il suo computer eccetera e lo può usare se io e lei dobbiamo condividere un lavoro questi sono video magari a volte mi dà una mano quindi cioè deve lavorare sui video io posso dalla mia parte del mio computer io qui sono nel mio computer mettere quelle cose lì metterle in pubblica in questo modo quando lei accende questo computer dalla sua parte con la sua password se va in pubblica la trova quindi quello che c'è in pubblica è una cosa che noi abbiamo deciso che noi abbiamo deciso è proprio Windows che funziona così però sono cose che io ho deciso di mettere lì affinché anche l'altra persona che utilizza questo computer la possa utilizzare ne possa usufruire e possa averne gestione cancellare non cancellare eccetera eccetera e quindi qua siamo arrivati vedo che ci sono tante domande e dovremmo rispondere ormai ho parlato anche un sacco io volevo far vedere l'ultima cosa questi sono video quindi se io lo schiaccio vedo il video ma il video è digitalizzato cioè ci sono scritte che il computer interpreta e trasforma in un filmato se lo apro in una maniera particolare che adesso non voglio spiegarti per non fare confusione ma lo faremo vediamo se ci riesco dico apri con scelgo un'applicazione speciale che è il blocco note che è in grado di vedere e solo una volta non farlo per favore perché poi se non sei esperto non sai come far sì che il computer poi non faccia le cose giuste ok vediamo speriamo che stia tutto andando bene dico solo una volta si apre il video che è molto lungo in formato scritto forse non ho mai provato ma dovrebbe essere così attendiamo il problema con i video è che sono lunghi e quindi il computer sta facendo fatica mi sono mi sono inguaiato da solo perché appunto vedi questa classifra dice calma ragazzo perché io sto facendo però il computer non risponde troppo gli ho chiesto una cosa troppo gravosa chiudo e vedi che fa un po' fatica vabbè chiudi il programma ce la siamo forse cavata qui dice ma windows non risponde a posto ci siamo salvati facciamolo con qualcosa di diverso però devo sapere che roba è vabbè questa roba qui non so cos'è questo dai tasto destro apri con scegli un'altra app vediamo blocco note solo una volta e vabbè qua ci sono dentro delle scritte quindi questa cosa qui che ha un aspetto diverso una pagina internet qui si vede digitalizzata quindi tutti i file contengono informazioni digitali testo scritto e solo che poi il computer le interpreta e ve li mostra in un'altra maniera finiamo il discorso chiudiamolo così perché questo è un discorso infinito potremmo parlare per sempre e quello che ci interessa capire oggi è che nel computer nei telefonini nei tablet ovunque nella lavatrice anche se noi non lo vediamo ci sono cartelle e file quindi tutto questa cosa digitale il software tutto questo cosa automatizzato tutte queste istruzioni sono da qualche parte nel dispositivo elettronico e memorizzati sotto forma di cartella e di file qualcuno ce l'ha messo e l'ha messo proprio lì se è in un posto diverso se si chiama in un'altra maniera quell'oggetto lì non funziona più la lavatrice va sempre perché tu non vai a mettere mano dentro la progettazione eccetera ma ci sono persone che hanno scritto che il lavaggio di 40 gradi va fatto a 40 gradi con tot acqua con 30 giri di lavatrice da una parte 30 giri di lavatrice dall'altra per 40 volte poi scarichi l'acqua poi ne prendi nuova poi puoi passare l'ammorbidente eccetera qualcuno lo ha scritto è diventato un file dentro una cartella nella tua lavatrice la lavatrice lo legge è diciamo intelligente al punto tale da riuscire a leggere solo quel file lì quindi se gli chiedi di stampare la bolletta della luce non te la stampa ma lei lava solo le cose e però lo fa e lo fa perché è un come dire un file che gli dà i comandi e adesso basta vi leggo la chat e vediamo se posso rispondere a qualcosa andiamo a riprenderci il sito Amici di Maggiolina che intanto ci fa da sfondo bene vediamo un po' leggo l'ultimo perché Anto mi fa sorridere è bello essere una principiante a vita Google ha inviato una notifica con tre novità per semplificarci la vita dice devo dire che sì il computer va preso proprio da principianti a vita tutte le volte c'è da imparare qualcosa ma dai non ci sono tanti messaggi ah no sì c'erano degli altri ok no ok non ci sono tanti messaggi dai bene pensavo fossero tanti si vede che vi ho mettete il mi piace adesso che abbiamo un attimo di pausa mettiamo il mi piace ragazzi intanto che riprendo il filo avevamo detto che Mario dovevo andare a cercare Mario eccolo qua Mario e dice ok bene Mario grazie sotto Mario c'è Michele che dice ok vedo la mitica schermata e sento la tua voce grande Michele ciao Daniele un caro saluto a te ai Maggiolini in diretta poi ancora Michele dalla provincia autonoma di Trento grande Michele ormai ti penso quando andrò in Trentino adesso è un po' che non ci vado ma ho occasione di andare e allora poi Tiziano abbonato da 48 mesi sono spuntati i numero uno fan quindi dopo i 48 mesi di abbonamento vedete che hanno non più la Maggiolina ma sono stati santificati quasi i numero uno fan grazie infinite ragazzi grazie grazie ancora sempre Michele dice ragazzi ed amici mettiamo il pollice in su perché Daniele è molto bravo grazie grazie ci insegna quelle piccole accortezze per non incappare in spiacevole sorprese Maris dice Daniele io ho messo dunque io ho smesso a guardarti in diretta perché l'immagine è sfocata e non nitida ciao ciao Maris grazie di essere qua perché in diretta trasmetto in alta definizione e quindi serve una linea telefonica buona e un computer buono per riuscire a reggere il ritmo della diretta potresti anche quando guardi il video anche se non sei in diretta quindi magari non ci sei adesso se guardi questa registrata sotto c'è una rotella un ingranaggio lo premi c'è un auto oppure dei numeri se ti scegli un numero medio basso tipo 480p il computer ha una buona qualità e una buona capacità di seguire la diretta quindi non è più sfocato e ce la puoi fare diversamente se li guardi in registrata il computer non deve essere super performante perché il tutto avviene sul momento e lo puoi vedere tranquillamente in registrato perché allora i tempi sono più lunghi il computer può scaricare le cose lentamente e riuscire a gestirsi lo stesso questo è il contro della diretta però ci dà tanto anche la diretta Mauro ciao Daniele ciao a tutti ciao Mauro Sebastiana da me l'immagine è ottima è perché non è una questione proprio della trasmissione ma è una ricezione e computer che la elabora Michele sta parlando con Maris Vittorino dice buonasera Daniele ho trovato dei vecchi floppy da 3,5 come potrei fare per leggerli? serve un lettore Vittorino li vendono? li vendevano? secondo me se cerchi su internet Amazon con i posti lì lo trovi lettore floppy quello è da 3,5 lettore floppy guarda che sia da 3,5 ma sono quasi tutti così te lo danno in uno scatolino con sterà poco presumo e con la presa USB tu arrivi qui nel tuo computer lo metti alla presa USB e qui in questo PC quindi esplora file questo PC ti apparirà la lettera dell'alfabeto A noi ne siamo abituati che i nostri computer hanno come primo disco una lettera C in realtà A e B c'erano una volta erano dischi floppy quindi se tu attacchi un lettore floppy al tuo computer hai la possibilità di infilarci dentro i floppy e di vedere che cosa c'è tienimi presente che sono magnetici potrebbe non esserci niente ma non è detto io ne ho un sacco ancora e ho anche il lettore da qualche parte qua dietro però non mi serve però ci sono poi Sebastiana Vittorino Michele ok vediamo Emilio dice ok ciao Emilio Aldo è arrivato Edo questo era il messaggio poi Anto sta parlando con Mary Giuseppe ciao Giuseppe Bruno dice Daniele un salutone a tutti Alberto Daniele salve a tutti questi sono ancora i saluti ancora Giuseppe ecco Giuseppe che dice buonasera a tutti numero uno fan grande Giuseppe Luce dice Daniele scusami cosa fare per far parte dell'associazione dell'associazione As Maggiolina Fan allora mi dà l'occasione di spiegare di nuovo questo As Maggiolina Fan è un livello di abbonamento in pratica ci sono persone e molti di voi qui lo siete anche tu Luce si perché hai la Maggiolina Italia quindi sei abbonata da tanto come ricordavo e sei abbonata al nostro canale e sei un sostenitore e grazie 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 infinite e per questi amici sostenitori ci sono dei video abbonati che tu puoi vedere adesso Youtube ci ha sbloccato la possibilità di fare un livello in più cioè un abbonato che spende un po' di più in sostanza che ci sostiene di più va già bene l'abbonamento ma se qualcuno vuole sostenere un po' di più meglio e c'è la possibilità quindi di dargli qualcosa in più e ci senti però a queste persone che ti stanno ancora più vicino diamogli qualcosa in più e ci sono delle cose che noi possiamo mettere e in questo caso abbiamo visto che abbiamo messo il sito Amici di Maggiolina che comunque c'è anche per gli altri ma con la pagina speciale e ci sono i video in anteprima e dopo cos'altro c'erà gli sfondi degli Amici di Maggiolina e come si fa ad abbonarsi andare lì si preme sul pulsante abbonati sotto i video come quando ci si abbona si preme su abbonati e poi esce la schermata dove adesso c'è abbonato a più video quello dei video dei due video settimanali insomma dei video di tutti i 400 video che ci sono sul nostro canale i video abbonati sono per tutti per tutti gli abbonati ma se vuoi sotto c'è As Maggiolina Fan e quindi quello è il nome di un altro abbonamento sempre un abbonamento al nostro canale ma diverso che attenzione non è che allora dopo hai due abbonamenti ne hai uno solo diciamo più costoso e puoi comunque spostarti da uno all'altro insomma decidi tu qui se vuoi puoi premere su abbonarti ti porta nello stesso posto quindi dove il pulsante abbonati sotto i video è questo qui le cose funzionano in automatico però per entrare nel sito As Maggiolina Fan io ho bisogno di sapere la vostra email quindi se siete diventati nuovi As Maggiolina Fan grazie ragazzi poi avvisatemi mandatemi un messaggio dire ciao io sono sono un nuovo sono un As Maggiolina Fan sono arrivato in As Maggiolina Fan così vi apro anche la parte di là del sito questa dove ci sono gli sfondi le altre cose c'è la community dove si può anche chiedere qualcosa al gruppo diciamo allora poi Maria dice buonasera a tutti i partecipanti un saluto particolare al grande Daniele sempre più bravo grazie grazie infinite Maria grazie grazie stavo guardando l'ora tutto bene Alfredo dice mille grazie Daniele per i tuoi suggerimenti di sicurezza sono sicuro che mi hai salvato da grossi problemi un grande saluto a tutti i partecipanti mi viene da sorridere perché mi vengono sempre in mente dopo quando è troppo tardi perché poi le vedo quelle cose lì e ci è voluto qualche anno ma alla fine siamo riusciti a dirlo in anticipo però mi ha fatto un po' strano ho detto no speriamo di non finire dentro in questa cosa qui di non essercela attirata poi saluto Denis ciao Denis Marzia ciao Marzia Giuseppina ciao Pina Anima Blue numero uno fan dice adesso è una nuova numero uno fan grazie Aldo poi vediamo un po' Anima Blue super chat super sticker l'avevamo già detto prima grazie poi c'è GX Andrea bello come nome e dice la nostra prof di informatica ci ha fatto imparare la tabulazione con i tuoi video grande mi fa tantissimo piacere questa cosa qui da sapere grazie devo dire che sì nelle scuole si vedono i miei video almeno mi dicono è una grande soddisfazione perché vedere che persone che insegnano tutti i giorni nella scuola poi propongono anche i video è grande soddisfazione Vanda ciao Vanda ciao a tutti dice quindi anche noi Dario dice Daniele complimenti per la lezione sempre utile e valida saluti Dario un grande Dario ancora Vanda una domanda abbonarmi a Associazione Maggiolina con il mio account YouTube può entrare con il mio account YouTube può entrare nel mio account grazie no assolutamente no perché il tuo account di YouTube è quello di YouTube quindi non è che può entrare YouTube è il tuo account è il tuo account Google in realtà ma YouTube e Google sono la stessa cosa quindi non è che se ti abboni poi ti trovi cose strane è il tuo canale YouTube con sbloccata una funzionalità in più per dire così ecco Sebastiana come si crea la cartella da cancellare è come si crea una qualsiasi cartella lo facciamo vedere ma se non siete pratici aspettate a farlo però lo faccio vedere io vado in un posto qualsiasi perché venga fuori qui è un giro che è troppo lungo adesso da dire anche se è facile ma è troppo lungo voglio fare un po' di discorsi ma se io vado in documenti qui potrei dirmi vabbè qua tra tutte le robe voglio anche un da cancellare quindi creo una cartella da cancellare nuovo perché voglio creare una nuova cartella questa cosa la vedremo bene in un secondo momento per adesso lo facciamo così al volo nuovo cartella clic una volta se ne faccio due sbaglio e qui salta fuori la cartella se ne faccio due mi inguaio che non riesco più a cancellare la cosa quindi il clic due clic dobbiamo bene parlarne bene e adesso scrivo da cancellare da cancellare e poi premo invio per confermare sulla tastiera fatta una cartella da cancellare che è diversa questa e questa dove è andata questa e questa sono diverse perché sono in due posti diversi è come quando che so hai delle scatoline e una la metti in bagno e l'altra la metti nell'armadio la scatolina è sempre quella però sono in due posti diversi quindi anche se è identica stesso colore stessa marca comprata nello stesso posto sono gemelle non è la stessa perché sono in posti diversi nel computer la differenza è che la stessa scatolina non può stare nello stesso posto anche nella realtà cioè se tu la metti sulla mensolina dello specchio del bagno e non è che ce ne puoi mettere un'altra non ci sta quindi o una o quella lì o l'altra deve essere da un'altra parte e nel computer non può neanche essere sulla mensola sotto cioè non può esistere nello stesso spazio allora andiamo avanti vanda dovrei eliminare un mio account di gmail dalla scuola della scuola chiuso dalla stessa google mi dice di intervenire su questo account io vorrei eliminarlo come posso fare grazie per i tuoi consigli non posso darti un consiglio di questo genere senza vedere la situazione perché non anche se tu hai spiegato bene bisogna proprio vedere nel momento in cui lo fai avrei dei dubbi di non fare pasticci quindi lo farei con te in fianco per dire ok facciamo così ma dirtelo così a caso no perché fare un danno sugli account cancellarne uno sbagliato è un niente quindi finché non se la scuola lo ha chiuso finché non hai la sicurezza di dire lo elimino tu puoi anche ignorarlo perché non succede niente secondo me però chiaramente vedendo potrei aiutarti in maniera diversa Yanira dice grazie mille per le lezioni buona serata grazie Yanira spero di aver letto bene sì Mauro dice quando un hard disk esterno finisce in mani sbagliate collegandolo a un qualsiasi pc sarà possibile vedere tutti i file che contiene come si potrebbe prevenire da questa cosa e niente ragazzi così qualsiasi cosa tu possa fare se finisci nelle mani sbagliate non serve a niente perché dipende quanto sbagliate siano quelle mani lì si può sempre fare qualcosa tutte le cose per proteggere criptare eccetera ti rendono più difficile la vita del tuo computer nel senso di usarlo quel disco lì e basta cioè dipende da una singola cosa si potrebbe anche fare in modo che non sia visibile ma tutto è quasi impossibile secondo me rischi di più che non si veda però sicuramente i sistemi ci sono ed è così se il tuo disco va in mano a qualcuno lo dimentichi appoggiato che so a volte mi capita sempre quando sono in giro col mio computer di lavorare a tavolino del bar perché magari piove perché insomma devo fare qualcosa e non ho un posto e se me lo dimentico sul tavolino quando vado via chi lo prende in mano c'è tutto quello che c'è dentro in sostanza Mauro ciao Daniele sempre Mauro Celeste dice buona serata con un Chromebook devo no devo usare il software di pulizia assolutamente no per me neanche più sui computer normali ma ma men che meno su un Chromebook sei sei messo bene da quel punto di vista lì si può stare più tranquilli devi solo stare attento a dove clicchi tu sul Chromebook più che ti arrivi qualcosa quindi vale la regola che ormai vale sempre non si aprono i link sconosciuti se ti mandano un messaggio con ma ti sei dimenticato di rinnovare questo eccetera fai attenzione allora non è ancora successo e speriamo che non succeda mai perché noi comunque siamo ancora abbastanza piccolini numeri piccoli eccetera non mando ve lo dico prima non mando messaggi del tipo abbonati qui compra questo vai l'altro eccetera perché qualcuno potrebbe approfittare delle immagini e quindi mandare messaggi se dovesse trovare gli utenti di vendi compra spendi dei soldi in definitiva se dovesse mai capitare dici oh caspita mi aspetta che ma mi ha chiesto dei soldi mi ha chiesto di comprare questa roba che oh dici ma aspetta che gli scrivo dici ma siamo sicuri ma scrivo a info chiocciola associazione maggiolina punto it non rispondo a un eventuale messaggio quindi attenzione che magari è capitato ad altri ma molto più grandi come canali youtube che qualcuno poi ha fatto finta di essere loro e chiedere soldi tramite quindi no ragazzi mi raccomando vi chiedo di abbonarvi solo qui in diretta dal canale associazione maggiolina ma non vi scrivo allora ma speriamo che non succeda neanche quella roba lì perché confusione 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 allora quando merdisco esterno finisce in mani sbagliate l'abbiamo detto Anto è bello essere una principiante a vita l'abbiamo visto prima poi ciao Andrea ciao Mauro ciao Claudia ciao Giovanni ciao Wanda Andrea dice ciao scusa la domanda non inerente all'argomento un pc portatile di fascia media che consigli di comprare ne ho parlato è un video abbonati per quello perché ci sono dei parametri da guardare abbastanza lungo c'è un video nella serie abbonati e mi dispiace dire che una serie abbonati vedo che non sei abbonato ma è un discorso che abbiamo fatto lì perché ho detto quello che mi piace quello che non mi piace tutto quanto senza marche non marche e quindi ho preferito averlo diciamo per i più per i più affezionati e quindi ci sono delle cose che guardo per per scegliere un computer fascia media e ognuno dopo la fascia la fa con i suoi con i suoi soldi quindi si fa un'idea per me una fascia media massimo 600 euro ecco questo è però dipende da quello che ci devi fare con il computer per cui fascia media potrebbe variare perché se poi tu spendi quei soldi lì e non fa quello che ti serve non è più fascia media cioè non sono più spesi bene i soldi Anto a scuola la mail istituzionale va nel cloud del ministero di istruzione non è gestibile dal singolo utente e qui non so se sta parlando con qualcun altro eccetera ragazzi siamo arrivati giusti come orario direi che siamo arrivati giusti per cui ci possiamo ci possiamo fermare qui quindi allora vedendo i nostri appuntamenti beh ci saranno i video domani dovrebbe uscirne anche uno nuovo che di solito il giovedì dici ma e qui domani dovrebbe esserci se riesco a finirlo c'è e quindi domani vi mando a vedere un video e venerdì sabato e domenica dovrebbero esserci i video come al solito vediamo a che punto arriviamo comunque sicuramente ci saranno i video quindi fate un salto nel sito amici di Maggiolina iscrivetevi al canale tenete le notifiche aperte eccetera così sarete informati dei nuovi video e appariranno anche qua e sabato amici che pochi amici perché saremo un piccolo gruppo di intorno alle 20 persone adesso vediamo un po' con 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 la salute di tutti negli ultimi giorni perché è da un po' che c'è in giro un sacco di cose ma noi sembra che resistiamo quasi tutti per adesso vediamo o che magari siamo già caduti in passato e via così quindi sarà bello anche sabato vederci di persona e farsi questi auguri di persona e poi magari la settimana prossima vedremo se organizziamo un incontro online in modo che chi vuole può partecipare anche a un saluto visto che il video della videoconferenza non ha dato tanto questa qui non ha dato questo interesse però insomma per chi ci sarà vorremmo vorremmo farlo e basta quindi video per la prossima settimana e presto per farsi gli auguri poi ce li faremo mercoledì prossimo che sarà il vediamo quanto sarà mercoledì prossimo il 20 direi che lì sarà il momento giusto buona serata buona cena se dovete ancora cenare e buon tutto direi quindi torniamo qui sul sito devo schiacciare i bottoni giusti per salutarvi e poi ci siamo ciao ragazzi buona serata grazie 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 infinite agli amici a tutti quanti per essere stati qua grazie un mi piace all'ultimo minuto fate ancora in tempo a metterlo se vi siete dimenticati dai basta adesso sto zitto ciao grazie a tutti grazie a tutti